Vittoria a tavolino per la Spespraya Volley che ieri avrebbe dovuto ospitare la Fusion Volley Soverato per lo scontro diretto per il secondo posto. Soverato che non si presenta a un match per la seconda trasferta consecutiva. Voci di corridoio parlerebbero di una crisi societaria, ma ancora non c'è nulla di confermato. Intanto la Spes prosegue nel suo cammino in Serie C con questo secondo posto. «Volevamo conquistare i tre punti sul campo, sarebbe stata una bella partita», ha commentato Mr. Borrelli alla conferma che il Soverato non si sarebbe presentato. Il match saltato si è trasformato però in una seduta di allenamento per i praiesi, che hanno messo in campo una partita tra compagni per i tanti spettatori che hanno deciso di non abbandonare la palestra comunale. Tra il pubblico anche Fabio Macri, di nuovo al comando della polisportiva Spespraya. «Stare lontano dai ragazzi è difficile. Una volta messo il piede in palestra si respira di nuovo la stessa aria e si rivedono i ragazzi, gli amici di sempre ed è difficile lasciare questo posto, lasciare gli amici di sempre. La società sta percorrendo questo percorso anche in una categoria che non è la nostra, purtroppo perché la Serie C è già un campionato abbastanza difficile. Siamo a secondi in grassifica e continueremo a testa alta a mantenere fede al nostro impegno. Speriamo che questo ci ripaghi con le dovute soddisfazioni. L'ambiente è quello di sempre, sereno, è un gruppo unito e a questo gruppo ovviamente uniamo tutti i dirigenti e tutti gli allenatori e soprattutto le giovanili che sono sempre, lo ripeto, il nostro punto di forza». Macri aveva chiesto le dimissioni da Presidente lo scorso mese di settembre a causa di alcuni scontri con la Federazione Pallavolistica Calabrese. I dirigenti però non hanno mai accettato questo congedo e alla fine sono riusciti a convincerlo a non abbandonare la società. I mesi di riflessione erano una presa di posizione purtroppo per una serie di vicissitudini che non appartengono alla nostra società ma è al contorno della nostra società. Ci hanno messo in discussione la struttura e pertanto ne crediamo, viste le difficoltà e i sacrifici che si fanno, mettere in discussione una struttura e rischiando di azzerare il movimento pallavolistico-praiese per me è sembrato qualcosa di forte. Quindi la mia presa di posizione era proprio per sfidare questo sistema. La partitella di ieri è stata la prima seduta settimanale in vista della trasferta di domenica prossima a Crotone in casa della LC Pro Volley, prima della pausa natalizia.